Apro il mio appuntamento di oggi con il messaggio che Papa Francesco ha inviato ieri al nostro Don Francesco in lingua spagnola, la loro lingua del cuore. Ve lo traduco. Caro fratello, tante grazie per il messaggio. Io da qui ti accompagno. I miei saluti ai tuoi parrocchiani. Prego per loro e a loro e a te chiedo di pregare per me. Che Gesù ti benedica e la Vergine Santa si prenda cura di te. Fraternamente, Francesco. Oggi voglio ringraziare tutti i nostri sacerdoti che si prendono cura di noi. Don Mario, Don Sergio, Don Francesco, Don Luigi. Voglio ringraziare i medici di base che senza sosta accudiscono i nostri malati nelle loro case. Grazie ai volontari che ci aiutano ogni giorno. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori delle attività commerciali che in questo momento di difficoltà anche sanitaria non fanno mancare nessun servizio alla nostra collettività. E un caro saluto al nostro Papa.